Hai parlato con tuo figlio? Gli hai chiesto come stava? Perché? Nel parcheggio della scuola hanno trovato un cadavere. E sai chi l'ha scoperto? Jimmy Frank. Chi è Jimmy Frank? L'amico del cuore di tuo figlio. Maledizione! Poi ogni giorno fate tre chilometri di strada insieme, prendete il treno e tu non gli rivolgi nemmeno la parola. Non sono tre chilometri. Ok, dodici isolati, va bene? Più il transito del treno. Senti, non voglio litigare, ma se ti dico che non sono tre chilometri, non lo sono. Tuo figlio oggi si è trovato davanti una prostituta mezza nuda con lo stomaco squarciato e con il contello ancora conficcato dentro. Io ho 37 anni e non ho mai visto, mai visto in vita mia una scena come quella. Non l'hai fatto venire al funerale di tua madre, ma oggi ho visto il cadavere di una prostituta. Che cosa vuoi che faccia, Sara? Cosa voglio che tu faccia? Voglio che tu parli con tuo figlio. Devi farlo. Trascorri più tempo a parlare con i genitori di quei ladruncoli armati fino ai denti che non... Questo è il mio mestiere. No, non è questo il tuo mestiere. Senti, ho duemila studenti dei quali sono responsabili. Sento, non è una tua responsabilità. Sì, è una mia responsabilità. No, in realtà c'è un solo bambino di cui sei davvero responsabile, che oggi ha visto il cadavere di una prostituta a carcere e a quell'età non è una cosa normale. Sara, io non posso mollare tutto all'incorviso e correre via solo perché c'è stato un imprevisto. Davvero? Che cosa vuoi da me? Vuoi che vada a dire a tutte le prostitute di smetterla di battere su nada? Voglio solo che parli con tuo figlio. Vuoi che vada per strada con un fucile e dica Ehi, fermi tutti, sta per passare mio figlio. Tornate nelle vostre case. Io voglio che tu parli con tuo figlio. Io non ho un vicepresidente. Ti chiedo solo questo. Io sono solo, completamente. Certi genitori, quando si presentano ai colloqui, hanno solo voglia di insultarmi. Parla con tuo figlio. Perché il figlio non è entrato nella squadra di football? Perché l'insegnante ha spiegato in classe delle posizioni erotiche? Non mi spegne anche a scontare. Io non ricordo quando è stata l'ultima volta che uno di loro mi abbia detto semplicemente grazie.